Noi Cisla siamo nelle periferie con i giovani per il lavoro, questo lo slogan scelto per il Consiglio Generale dei Pensionati iscritti alla FNP di Arezzo. Questo Consiglio della Federazione dei Pensionati è per rimettere al centro quelle che sono poi le tematiche che sono riportate nella nostra piattaforma unitaria anche delle Confederazioni che è stato manifestato sia a Roma il 9 di febbraio poi anche il primo di giugno. I temi sono quello principale e il lavoro. Lavoro per i giovani perché dietro al lavoro oltre a mantenere una dignità della persona poi con il lavoro si mantengano le pensioni. Poi all'attenzione ci sono problemi sia per quanto riguarda la tutela non solo degli anziani ma anche dei giovani e la sanità che è sottoposta sempre a tagli di trasferimenti e riduce poi quelli che sono i servizi e gli attesi di una popolazione che aumenta l'aspettativa di vita. L'altro tema principale è il fisco. È il fisco perché noi riteniamo che ripartendo dal fisco si possano ritrovare le risorse per effettuare investimenti, per dare lavoro, per dare anche una giustizia. È una società che sta invecchiando e allora una società che invecchia deve anche pensare agli strumenti per accompagnare una vecchiaia che sia dignitosa, serena. Credo che i numeri sono terribili se andiamo ad analizzarli. In Europa si parla fra 20 anni di un aumento del 10% degli over 65, a parte l'aspetto legato alle pensioni e al raggiungimento dell'età pensionabile, ma anche come possiamo pensare che questa fetta di popolazione abbia un ruolo che è quello che ha avuto nel passato? Non sarà sicuramente così, perché credo che i pensionati debbano avere un ruolo e hanno già oggi un ruolo attivo. Basterebbe pensare al ruolo che svolgono all'interno della famiglia, i nipoti, il sostegno nei momenti di difficoltà, il lavoro di cura. Cioè modalità anche diverse di stare nella società e di giocare un ruolo. Noi crediamo che i pensionati abbiano questa grande opportunità. Vorremmo che anche gli altri l'accogliessero e insieme a noi costruiamo dei percorsi prima per un invecchiamento attivo che serve a noi, ma anche a quale contributo possiamo dare ancora anche da pensionati e da anziani alla società nel suo insieme.